e posso grazie di darmi questa piccola opportunità un accento fiorentino noi siamo fiorentino forse noi la parola un anno sarò breve e conciso io ho un po' di difficoltà a seguire la politica perché non è da molti anni che la seguo quindi cerco di dare un contributo ma premetto che ho un po' di difficoltà volevo solo dire una piccola esperienza che ho fatto verso dicembre alla quale un mio amico mi disse vieni alla fortezza Daniele io mi amo Daniele vieni alla fortezza a protestare un po' che io ho detto boh avevo la mattinata libera sono andato cercavo di bloccare le macchine e che facevano questi fiorentini guardano ferma questa cazzo guardano così ma scendi dalla macchina e protetta quello che volevo dire è che veramente è importante che ognuno di noi dia un contributo non si può puntare il dito fuori dire ma Berlusconi è trent'anni ruba no ognuno nel suo piccolo che dia qualcosa l'acquedenza l'onestà il cuore per questo paese sono il perfetto e mi basta a questi ragazzi perché io ho visto molti video di tutti questi ragazzi e mi hanno veramente preguito pregherò anche per loro che abbiano la forza e il coraggio di vincere e se fa male se sei al novantesimo scalino e dole non mollare bisogna vincere grazie grazie grazie